ciao ragazzi finalmente pronto il link per poter preordinare le 500 copie del mio nuovo libro ricette in equilibrio edito da mondadori che uscirà ufficialmente a gennaio vi lascio sotto il link per poterlo preordinare e ogni copia sarò felice di poter fare la dedica personalizzata ciao e mi raccomando ricette facili equilibrate bilanciate ma soprattutto alla portata di tutti ciao